Midoriya, dimmi una cosa, sei sempre così tranquillo, sempre così positivo, ma come ci riesci? Beh, ti dirò il mio segreto, Todoroki! Io mento a me stesso! Ogni giorno, non appena mi sveglio, comincio a ripetermi che andrà tutto bene! Ma sto mentendo! E non so ancora, per quanto allungo, riuscirò a farlo! Ci vediamo dopo, Todoroki! Ciao!